Musica Dopo la decisione di Fitch di declassare l'Italia, un passo affrettato che aggraverà la stretta sul credito. Un altro ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi, la sua immagine, il suo corpo, la sua salute hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia politica del Cavaliere. Musica E il banco di prova del Movimento 5 Stelle, Parma, città laboratorio del grillismo, a nove mesi dall'insediamento della giunta, siamo andati a sentire cosa ne pensano i cittadini e vedere come se la cava il sindaco Pizzarotti, che deve anche gestire lo stato di agitazione dei dipendenti comunali. Sono arrivati i primi avvisi di garanzia ai capigruppo di PDL, Lega e PD della regione Friuli-Venezia-Giulia, l'accusa di peculato o soldi pubblici per spese di rappresentanza, in realtà personali, l'ombra di questa inchiesta sulle prossime elezioni. Erano semplici militanti in OTAV, ora sono stati eletti in Parlamento e in questa veste hanno partecipato al processo in corso a Torino contro una cinquantina di loro compagni di lotta contro l'alta velocità, scontri nella notte a Chiomonte. Due funzionari Scusate, c'è stato qualche problema nei titoli, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Tg della Sette Cronache. Allora, lo avete sentito nel nostro telegiornale, Berlusconi questa mattina, Silvio Berlusconi, che è ricoverato all'ospedale San Raffaele, è stato sottoposto a visita fiscale. La decisione è dei giudici di Milano. In aula questa mattina c'è un'udienza del processo Mediaset e i legali di Berlusconi avevano chiesto il legittimo impedimento proprio per motivi di salute. Dunque, la visita fiscale c'è stata. Adesso, in questo momento, proprio in questi minuti, i giudici sono in Camera di Consiglio per esaminare quello che il medico fiscale ha deciso sullo stato di salute di Berlusconi e noi ve ne daremo conto nel nostro telegiornale. Tra poco forse saremo in grado di collegarci con il nostro collega al Tribunale. Noi vi parliamo di Berlusconi anche perché abbiamo parlato di salute. La salute di Silvio Berlusconi richiama un altro tema che è il tema dell'immagine, che è il tema del corpo, del corpo dell'ex premier. Da sempre l'immagine, il corpo sono stati al centro della vita politica del Cavaliere di Silvio Berlusconi. In principio sono stati le foto, i ritocchi, appunto la cura delle immagini, ci sono state le diete, i cambi di look. Poi ci sono stati anche gli incidenti come quello della statuetta in Piazza del Duomo e adesso la salute, le condizioni di salute. Ora noi percorriamo l'immagine di Silvio Berlusconi dagli inizi ad oggi. Vediamo. Non è pronto il servizio, allora lo vedremo dopo il servizio su Silvio Berlusconi e allora andiamo a Parma. A Parma perché? Perché Parma è una città, lo sapete, lo sappiamo ormai da mesi, la città, l'unica città italiana guidata dal sindaco Pizzarotti, sindaco del Movimento 5 Stelle. Dunque noi siamo andati lì a cercare di capire quali sono gli umori della città proprio dopo l'elezione di questo sindaco. Ci sono state, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, delle promesse, delle promesse che non sono state mantenute, ma capiamolo proprio da lì, da Parma. Parma. Non è ancora passato un anno dalla campagna elettorale dell'allora semisconosciuto candidato grillino Federico Pizzarotti, il primo del Movimento a dover dimostrare poi di saper mettere in pratica i temi forti e le promesse agli elettori. Siamo andati a Parma a vedere cosa succede in quel comune, laboratorio del grillismo. Il sindaco e nessuno degli assessori 5 Stelle vuole parlare, sintomo del momento delicato che sta attraversando la sua gestione. Per qualcuno Pizzarotti è giovane e ha bisogno di tempo, per altri le promesse non mantenute sono già una sentenza. Il poverino non poteva fare i miracoli, dopo tutti i disastri che hanno lasciato gli altri, per conto mio la bacchetta magica non ce l'aveva avuto nessuno. La città di Parma è una città che gestirla non è facile, perché le esigenze sono tante, però si spera che con questa amministrazione le cose vadano meglio. Mi sembra che sia impreparato, ma non inadeguato, che sta facendo del suo meglio per ripianare l'enorme buco di bilancio che ha trovato. L'unica cosa che ha detto, voglio chiudere l'inceneritore, l'incenerosi riap, lo aprono, ha aumentato la rete degli asili. Avendo un'attività nel centro, noi siamo molto, guardi, è completamente bloccato il centro. Ricordiamo i fatti. Il comune di Parma è stato commissariato a ottobre 2011, dopo le dimissioni di Pietro Vignali, sindaco di centrodestra, che lasciò un buco di centinaia di milioni di euro. Solo nei mesi successivi verranno svelate le cifre, periodo in cui si alterneranno come commissari straordinari Anna Maria Cancellieri e Mario Ciclosi. Quest'ultimo, nella sua relazione finale, conta un rosso da 800 milioni di euro. Pizzarotti viene eletto, ricalcola il passivo delle casse comunali di poco superiore a 600 milioni e sarà questa la zavorra di partenza del suo lavoro. Così la prima grana è quella dell'Imu. Sulla tassa della casa, Pizzarotti aveva promesso di ridurre l'aliquota dallo 0,6%, massimo consentito 0,6% era il tasso con l'aggiunta precedente e 0,6%. È rimasto inalterato al momento per il sindaco. L'Imu non si può rivedere. Il suo assessore dichiara che prima di fare altri interventi a favore della popolazione in difficoltà si deve sistemare l'aliquota. Risultato, le casse del comune restano comunque in rosso, esattamente come quelle di tanti elettori di Pizzarotti che il 17 dicembre hanno pagato cara la tassa sulla casa di proprietà. Altra nota dolente, il quoziente Parma, lo strumento a disposizione del sistema del welfare del comune per sostenere le famiglie in difficoltà economiche attraverso sgravi fiscali. Nel piano tariffario del 2013, votato lo scorso novembre, il quoziente Parma è sparito. Per costi troppo alti, spiegherà il comune, problemi anche nel campo dell'istruzione, da settembre 2013, inizio del nuovo anno scolastico, rischiano di sparire 83 posti bimbi nelle scuole comunali, di conseguenza meno sezioni e più maestri a tempo determinato, senza lavoro. Come se non bastasse, sono giorni delicatissimi per i dipendenti comunali, i problemi economici legati al contratto del lavoro, a cominciare dal blocco degli straordinari, hanno portato alla rottura facendo insorgere i sindacati. Noi abbiamo già annunciato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari. Possiamo preannunciarvi che ci stiamo preparando ad una manifestazione fuori dall'orario di lavoro, anche perché non vogliamo essere strumentalizzati da nessuno. Poi la madre di tutti i problemi, l'inceneritore di Ugo Zolo, che entrerà in funzione tra qualche settimana ed è in piena fase di collaudo finale, era stata la promessa delle promesse in campagna elettorale, per molti la base del successo nelle urne. Quello che proponiamo noi è sicuramente la non apertura dell'inceneritore. L'inceneritore qui non lo faranno mai e se lo faranno dovranno passare sul cadavere di Pizzarotti. L'opposizione, il centro-sinistra che rimase annichilito dall'elezione e espluato i Pizzarotti, ora vede spazi per una battaglia vera. C'è stata marcia indietro, c'è stata una rapida smentita e Pizzarotti dà prova di aver preso i vizi della casta molto rapidamente. Quindi diciamo che ormai gareggia con Berlusconi nel fatto di smentire quello che è stato promesso. La nuova giunta si è insediata a giugno, subito è ridotto prebende, spese extra, una gestione virtuosa e trasparente. Il sindaco c'è e si vede, non è nascosto nell'auto blu. Ascolta i cittadini, a volte è costretto ad allargare le braccia perché di soldi nelle tasche del comune ce ne sono proprio pochi. E per il momento Parma rischia di essere la città tutta tasse e inceneritore. E allora, lo dicevamo, è arrivata la decisione dei giudici di Milano dopo la visita fiscale di questa mattina al San Raffaele a Silvio Berlusconi. Ci colleghiamo subito con Gui Chiappaventi che è in tribunale a Milano. Chiappaventi, allora, l'ultimo aggiornamento. Buongiorno dal Palazzo di Giustizia. Allora, l'esito della visita fiscale è che l'impedimento non è stato considerato un impedimento assoluto. Berlusconi effettivamente soffre di un'uverite bilaterale. La terapia che gli viene impartita all'ospedale San Raffaele è giusta, ma non tale da impedirgli di presenziare l'udigenza. E dunque il giudice Galli, presidente della Corte d'Appello del processo di diritti TV Mediaset, ha disposto di procedere oltre. Ovviamente c'è stata subita polemica da parte dell'Avvocato Ghedini, si è alzato in piedi, ha chiesto il contraddittorio in aula tra i medici di Berlusconi, il professor Zangrillo e il professor Bandello che è il primario di oculistica del San Raffaele e i medici dell'oculista e il medico legale mandati dal tribunale per questa visita fiscale. A questo punto il giudice Galli, vi dicevo, ha stabilito, ha detto si deve procedere oltre. Ghedini sta nuovamente parlando. Se ci fossero ulteriori novità, come ad esempio un'epotesi ventilata che gli avvocati abbandoni o l'aula, vi chiamerò nuovamente per ulteriori aggiornamenti. Il legittimo impedimento dunque è stato respinto. A voi la linea. Bene, grazie, Guicchia Paventi e buon lavoro. Andiamo avanti. Parliamo sempre però di Silvio Berlusconi. Ve lo avevo anticipato. La salute, la salute di Berlusconi, richiama anche al tema del corpo, al tema dell'immagine, da sempre importantissima per il Cavaliere. Noi ripercorriamo tutta la vita pubblica del Cavaliere attraverso l'immagine. Vediamo. Berlusconi che sparisce. Puff, di punto in bianco, dopo aver occupato militarmente tutte le frequenze video impegnato nella remontada elettorale, al momento decisivo del post-voto, quando la presenza è fondamentale, lui evapora. È malato. Problemi agli occhi, recita il bollettino medico spedito in tribunale che non convince la rivale di sempre, il da Boccassini. Sarà il medico fiscale autorizzato dai giudici di Milano a dirci quanto sta male il Cavaliere. Malattie, infortuni, ferite. Berlusconi è il corpo, il suo e quello degli altri. Era quasi un'ossessione, una missione politica. Senza ricorrere. A scomodi paragoni con il fascismo e al culto della personalità. Berlusconi all'immagine ci tiene e sa che può essere decisiva. All'inizio erano i tacchi, il complesso dell'altezza compensato dalle foto ad arcore dove si fa ritrarre mentre corre, in tuta, insieme a Pier Silvio. Faccio ancora i cento metri in un ottimo tempo, raccontò senza traccia di ironia i giornalisti cinque anni fa appena tornato al governo. Quando mi guardo allo specchio mi piace sentirmi giovane, mi sento di avere 40-42 anni. Il mio cuore è bradicardico perché in gioventù ho fatto un sacco di sport, sentite che muscoli. Come Tyson a 70 anni suonati, con corte di medici e fisiatri, pronti ad avallare l'idea. Bello lui, belli devono essere, quelli che stanno accanto a lui. Alla storia è passato il richiamo al presentatore con barba fuori ordinanza. Nella guida ai candidati di Forza Italia c'erano non solo consigli sull'abbigliamento. Agli aspiranti parlamentari veniva vivamente suggerito di radersi, pettinarsi ed anche lavarsi i denti. Culto della persona, ma non nel senso dell'idolatria del leader, o forse non solo. Nel caso del Cavaliere l'attenzione maniacale è anche quella all'igiene. Nessuna banalizzazione, il militante deve essere impeccabile, vincente. Ma non lontano dai cittadini, non zelig, ma vera osmosi. Berlusconi con il caschetto, con il berretto da ferroviere, indossa il maglione all'Aquila quando visita i terremotati. Mette la bandana come un vacanziere qualsiasi per ricevere Blair in Sardegna. Toglie la cravatta quando parla ai giovani pidiellini. La nostalgia quasi leopardiana per il di passato, il giorno del compleanno, non è di festa. L'eternità come obiettivo. Don Verzee mi ha garantito che riuscirò a vivere ben oltre i cento anni la certezza. Se poi il corpo ha bisogno, può essere aiutato. Il trapianto dei capelli, il lifting per ridare tonicità al viso. Nessun pregiudizio nei confronti della chirurgia estetica. Stimo le donne che si sottopongono a queste operazioni. Sono ancora più belle perché la loro bellezza se la sono meritata. La valutazione del Cavaliere che scatena polemiche. Anche perché Berlusconi è spesso accompagnato da donne, anche molto giovani, che si sono visibilmente rivolte al chirurgo. La vecchiaia come nemico da battere. Diverso il discorso per le ferite. Quelle possono, devono essere mostrate. Trofei da attaccare al petto. Tanti nemici, tanto onore. Il malore sul palco del novembre 2006 non è un segno di debolezza. Chi lavora fatica e può esserci un passaggio a vuoto. Che viene puntualmente superato così ogni volta dopo un'assenza ecco il ritorno. Come prima, più forte di prima. A Roma, l'ultimo giorno del 2004, viene colpito con un accessorio di una macchina fotografica a Milano. Nel dicembre del 2009 è ferito al volto dalla statuetta del Duomo, lanciata da uno squilibrato. L'immagine del volto insanguinato fa il giro del mondo. Berlusconi si ferma, ritorna, incerottato, perché i colpi del nemico fanno male, ma non lo azzoppano. Possibile ci riesca una congiuntivite? Abbiamo visto come anche l'agenzia di rating americana Fitch abbia declassato l'Italia, complice la recessione e anche l'instabilità politica del nostro paese. Il ministro Grilli, proprio questa mattina, ha detto che il tesoro metterà in sicurezza il paese. Noi ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Banca Sistema per cercare di capire questo declassamento e anche per capire chi sono queste agenzie che danno i voti all'Italia. Qual è l'agenzia di rating che pesa di più, i cui giudizi pesano di più? Ci sono agenzie di rating tipo Standard & Poor's che hanno per dimensioni, sono considerate più grandi, ma a livello di peso dipende molto dagli investitori, quale agenzie di rating utilizzano, con cui se un investitore che sia privato, che sia una banca, utilizza Fitch piuttosto che Standard & Poor's, è una sua scelta e quindi diciamo che il peso diventa relativo. Non c'è un valore assoluto per cui un soggetto vale più degli altri. In passato ci sono state anche molte polemiche sulle agenzie di rating, sui loro report, spesso arrivati anche a mercati aperti, in Fitch in particolare è stato nell'occhio del ciclone. Infatti anche in questo caso io trovo che il giudizio è stato fatto in modo troppo affrettato, non abbiamo ancora un governo, non abbiamo ancora nemmeno dato un primo mandato, per cui fare un downgrading dell'Italia in questa situazione lo ritengo più un effetto mediatico che è un effetto sostanziale di analisi della situazione politica post-elettorale. E ancora, ancora immagini, vedremo tra poco dalla Val di Susa, da sempre fronte caldo della protesta Notav, a Chiomonte dove c'è il cantiere dell'alta velocità Torino-Lione. La notte scorsa ci sono stati ancora degli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti e quello, proprio quello della Val di Susa, ritorna ad essere un tema, una partita importante perché chi si oppone all'alta velocità, dalla sua parte questa volta anche il movimento Notav e proprio i Notav, i parlamentari, i neoletti parlamentari, ieri erano in aula a Torino al processo e il prossimo 23 marzo hanno già annunciato la loro presenza, tutti i 163, alla manifestazione in Val di Susa. Notte insonne al cantiere Notav, notte inquieta tra i boschi della Val Susa in serata e i manifestanti si radunano a Chiomonte per l'8 marzo, giornata della donna. Un sit-in pacifico, cori slogan, si battono le reti, sul tardi una trentina di attivisti col volto coperto si stacca dal gruppo, parte una sassaiola contro il cantiere, lancio di pietre anche verso le forze dell'ordine che sono lì a presidiare, un agente viene lievemente ferito, la polizia risponde sparando con gli idranti. Queste immagini raccolte da You Reporter raccontano l'ultimo atto della protesta contro il cantiere della Torino-Lione, in seguito ai tafferugli 25 manifestanti sono stati identificati e uno denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo giorni di tregua la febbre nella valle è ripresa a salire, Nella mattinata di ieri in una ricognizione sul posto i carabinieri hanno trovato una batteria di materiale pirotecnico nascosti sotto una pietra in un involucro di nylon, petardi, razzi e maschere antigas. Passate le elezioni in cui il tema notava è rimasto sullo sfondo, si riaccende lo scontro sul progetto della discordia e stavolta il Movimento avrà al suo fianco la pattuglia dei neoeletti 5 Stelle che ha già annunciato la sua presenza in massa alla manifestazione del 23 marzo prossimo in Val di Susa. La grande novità di questa manifestazione sarà che si ribalta la situazione finora esistente. Finora noi eravamo cittadini contro lo Stato, adesso siamo parte dello Stato che sfila in valle con i cittadini. Clima surriscaldato anche nelle aule del Palazzo di Giustizia. Ieri al processo a una cinquantina di esponenti del Movimento per gli scontri dell'estate del 2011 in Val Susa, nel bunker delle Vallette a Torino, si sono presentati alcuni neoparlamentari del Movimento 5 Stelle. I neoeletti hanno protestato contro i giudici, è tutto surreale, hanno detto, prendendo le difese degli imputati. Sono arrivati in Friuli Venezia Giulia i primi avvisi di garanzia per lo scandalo dei rimborsi elettorali ai tre capogruppi del PD, del PDL e della Lega. L'accusa è di peculato ed è indagato una buona parte, una gran parte del Consiglio regionale del Friuli. È una bufera che travolge una regione alla vigilia delle elezioni per eleggere il nuovo presidente. Tra i candidati c'è il candidato del PD, c'è il candidato del PDL e c'è anche il candidato del Movimento 5 Stelle che proprio in questa situazione potrebbe raccogliere molti voti. Troppo facile tirare in ballo la bora quando si parla di Trieste, ma l'inchiesta della Procura sui rimborsi illegali per le spese dei gruppi del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è sul serio. Una bufera che scuote e spezza il quadro politico in una regione alla vigilia delle elezioni. Sono già stati programmati infatti gli interrogatori dei capigruppo dei tre partiti più rappresentati nel Consiglio e raggiunti da un avviso di garanzia per il reato di peculato. Coinvolto Daniele Galasso, responsabile dei 16 consiglieri del Popolo della Libertà, 11 tra di loro risultano indagati e ci sarebbe quello che presentò per il rimborso come spesa d'attività politica il conto della pescheria per l'acquisto di crostacea e la vigilia di Natale, quando Consiglia è giunta sono in vacanza. E' proprio questo il problema. I capigruppo viene contestato il mancato controllo. Gli scontrini venivano presentati senza alcuna giustificazione o esame, una specie di banco matta a disposizione e senza neppure il codice personale da digitare. Il presidente della regione ricandidato alla prossima tornata elettorale, Renzo Tondo, ha già annunciato la stretta. Bloccato l'automatismo dei rimborsi, ma se la deve vedere con la formazione delle liste. L'operazione è trasparenza invocata da tutti. Verrà ascoltato anche Danilo Narduzzi, capogruppo della Lega Nord, al momento l'unico indagato ufficiale del Carroccio, anche se un compagno di partito avrebbe ammesso di essere lui il responsabile dell'incauto acquisto in armeria messo a piedi lista per il rimborso. Non ho mai comprato una pistola, spiegherò tutto, ha ripetuto ai cronisti. E la tegola è caduta anche sul Partito Democratico. L'ex presidente del Consiglio regionale Gianfranco Moretton è ora passato nelle fila della formazione scelta civica per Monti, ma lui in particolare verrebbe contestato l'acquisto improprio di un set di pentole, un regalo difficile da rubricare come spesa di rappresentanza, ma il diretto interessato smentisce di aver compiuto illeciti ed è pronto a presentarsi di fronte al magistrato. Nel PD altri tre consiglieri sarebbero finiti nel registro degli indagati e chi non l'ha presa bene è Deborah Serracchiani, candidata per il centro-sinistra alle regionali del 21 aprile. La nostra comunità non può sopportare le conseguenze del comportamento inqualificabile di un gruppo di consiglieri che non hanno onorato la loro carica. L'azione di pulizia e ricambio, se necessario, sarà radicale, dice. E nella tormenta, chi dorme tranquillo, Savero Galluccio, candidato del Movimento 5 Stelle, già forte del 27% incassato dai grillini nelle elezioni per la Camera e dal pieno nelle piazze friulane dello tsunami tour. Le avvisi di garanzia anche a Perugia, dove mercoledì scorso negli uffici della regione un imprenditore, Andrea Zampi, ha ucciso due impiegate e poi si è suicidato urlando mi avete rovinato. Sono indagati due funzionari della questura e un medico. Quel punto qual è? Perché un uomo affetto da gravi problemi psichici avesse ancora l'abilitazione all'uso delle armi. Chi ha armato la mano di Andrea Zampi? Chi, nonostante i problemi mentali di qualche anno fa, gli ha consentito di comprare una pistola? Le indagini sulla strage di mercoledì mattina negli uffici della regione Umbria a Perugia portano all'iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, due funzionari della questura e un medico. L'imprenditore che al grido di mi avete rovinato ha ucciso Margherita Peccati e Daniela Crispolti e poi si è ammazzato in seguito a trattamento sanitario obbligatorio nel 2009 si era visto revocare l'abilitazione al tiro sportivo. Ma sei mesi fa la questura della sua città aveva nuovamente rilasciato a Zampi quel documento grazie a due certificati che ne avevano attestato l'idoneità psicofisica. La sera stessa della tragedia i pubblici ministeri titolari del fascicolo hanno convocato il medico di famiglia. quello che aveva firmato il primo dei due certificati e lui ha spiegato di aver seguito Zampi per circa un anno senza mai notare patologie né comportamenti anomali della personalità. I due poliziotti che hanno restituito a Zampi il porto d'armi per uso sportivo verranno interrogati presto. Le tre iscrizioni sono un atto dovuto, chiarisce la procura. Rimane fuori dall'inchiesta il medico che aveva redatto il secondo certificato perché aveva avuto il compito di verificare soltanto le condizioni fisiche di Zampi, udito, vista e capacità di maneggiare un'arma. Stamattina l'autopsia dell'imprenditore, ieri quelle delle sue vittime. Le due famiglie celebreranno funerali privati, hanno rifiutato le esecue solenni in Duomo offerte dal sindaco di Perugia e dal governatore della regione Umbria. Ieri, ringraziando i dipendenti della regione per la serietà e la responsabilità in questi giorni drammatici, Catiuscia Marini ha dedicato un 8 marzo di dolore e memoria alle vittime innocenti della follia omicida. Ed è un record di ascolti, quello di ieri sera per Maurizio Crozza e il suo Paese delle Meraviglie qua su La 7, il 12,17% di Cher. Lo sapete, Crozza sta raccontando proprio in questi mesi questa Italia tra elezioni e crisi con i suoi personaggi. Vediamoci insieme i momenti più divertenti di questa serata. Prego maestro. Che cosa c'è? Ma se è uno zombie, cosa c'è qua? Che sono costretto a innamorarmi di te. Ma ti devi togliere dai coglioni, sei un morto che parla. Lo so che sei il primo partito. Ma siamo uno tsunami, non il primo partito. Non sono risentito. È un dinosauro, ti devi astingere. Ti voti, tu ne hai presi un po' di più. Ma te ne sei accordo ora, Gargamella? Vai a casa! C'è che avete una banca che c'è un buco da 24 miliardi. Ma vai a fa' il culo, tu e il tuo programma. Ma non importa delle offese. Offese? Siete buone l'offesa? Pagliamo anche le spese. Comincia tu, tagliati te. Cosa vuoi salvare? Che cazzo vuoi salvare? Tu questo paese, arrendetemi. Siete circondati e te non facciamo un cazzo. Siete circondati, voglio il cento per cento. Ma fa' il culo. E allora ci fermiamo adesso qualche minuto per la pubblicità. E allora un ultimo aggiornamento con la notizia con cui abbiamo aperto il nostro giornale. Perché ha avuto un seguito la decisione del giudice del Tribunale di Milano di considerare illegittimo impedimento chiesto dai legali di Silvio Berlusconi. E proprio il legale di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha rinunciato alla sua ringa difensiva e si è detto amareggiato come cittadino e deluso come legale. Bene, era l'ultimo aggiornamento. Il Tg della Sette Cronaca torna domani alle 14. E l'informazione torna alle 20. Una buona giornata a tutti.